Che effetto ti fa a rivedere in giro quella tag? Un effetto strano, diciamo che un po' ho ancora qualche senso di colpa nel momento in cui ho deciso di uscire e di fare altre esperienze E questo mi resta e vederla di nuovo lì, di nuovo nel competitivo seppur a un inizio, inizio, inizio A quanto ho capito non è a nessun... si deve ancora costruire lo sviluppo competitivo dei Moss Ma è comunque relativamente... cioè è piacevole vederli qui anche se mi dà un... insomma Sì, no, diciamo che non è un clan a sé stante, fa parte di una community più grande di quelli che erano i vecchi top E che adesso hanno... con il confluire di altri gruppi ancora sono diventati gli Snow Allora, partiamo con gli Zenith che schierano un Ohio, un Goliath, un Hindenburg, un Petropavlosk, due Stalingrad e un Somers Per quanto riguarda i Moss? Allora, per quanto riguarda i Moss schierano un Ohio, un Hindenburg, un Venezia, un Petropavlosk e due Stalingrad e un Dering Interessante, quindi Somers contro Dering Adesso sto per cliccare per scoprire se ho installato correttamente tutto Sì! Rullo di tambore Ok, 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 ce l'abbiamo fatta Va bene! Quindi, come io avevo detto, gli Stalingrad ci sono In questa mappa, sì Io avevo detto almeno uno, ma due non fa mai male Oltre a un Petropavlosk per squadra Ti dirò, ti dirò Il Petropavlosk Io, nel senso, il Petropavlosk è un'ottima nave Per l'amor del cielo, io non ho nulla da dire al riguardo Però, in mancanza di una CV Non lo so, io al posto dei Petropavlosk avrei visto meglio un flanker in più per lato Questa è una mappa, come ho già detto, che pezza i team A meno di push clamorosi Opposizioni anche particolari Sì, discutibili Particolari Tu dici particolari E io dico discutibili Poi ne possiamo discutere Ritengo che In una mappa così È più importante avere un flanker Che una nave di posizionamento Come lo Stalingrad O in questo caso Il Petropavlosk Perché, soprattutto per il Petropavlosk Dove lo stanno mandando I Moss lo vogliono mettere in G2 E sì Ma non avrà Non c'è Non ci sarà crossfire Sarà costretto per la maggior parte del tempo a sparare HE E il Petropavlosk E il Petropavlosk a sparare HE Diventa una nave inutile Non funziona Diventa una nave assolutamente inutile Allora Iniziamo a dedicarci ai posizionamenti Abbiamo il Sommers Che ha torpato Verso il cap di A E probabilmente non troverà Nessun tipo di Attenzione perché I top che vanno diretti No, sono troppo No, no, no Tranquilli, tranquilli Tranquilli Comunque in supporto Di questo Sommers Hanno lo Stalingrad Il Petropavlosk Lindenburg in flanking Quindi non sono ancora nella loro posizione Mentre sul cap di Bravo Che non è ancora stato cappato dagli Zenith Mentre i Moss hanno già conquistato Charlie Vede il Goliath Uno Stalingrad Che si sta posizionando All'ingresso del corridoio Tra le isole qua a sud di Bravo E anche la scorta dell'Ohio I Moss con il Daring Che ha appena probabilmente spottato I siluri del Sommers Li vuoi descrivere te? Sì Diciamo che è uno schieramento Abbastanza speculare in questo caso Con gli Stalingrad Che sono sostanzialmente speculari l'uno all'altro Radar dello Stalingrad di squadrone Che vede il Daring Cerca di coprirsi Ma non avrà modo di coprirsi Perché aprono il fuoco il Sommers Il Petro Eh quel Sommers però c'è il Venezia Sì c'è il Venezia C'è il Venezia I DD a metà vita entrambi La differenza ovviamente è che il Daring ha inizialmente più vita del Sommers Proprio a cap iniziali e in più alle cure Alle cure e adesso difenderà il cap con l'Hydro Non capisco perché questo Sommers abbia smoccato alla fine della pietra Probabilmente perché ha aperto il fuoco sul Daring E quindi era spottato E per salvarsi dal Venezia Una seconda salva di Venezia non sarebbe stata piacevole come la prima Non che la prima sia stata Era un spottato Era un spottato e ha aspettato giustamente che il Sommers virasse ed esse full broadside al Venezia stesso Il che ha facilitato Lancia i Siluri E ha spottato lo Stalingrad di squadrone E anche il Petro o Lindenburg Vediamo un po' chi dei due No entrambi Dei Moss è spottato solo il Venezia di Powell Al momento E comunque guardiamo con attenzione il Goliath in linea 9 Io sono Si sta spostando molto in flanking Si ma è una cosa questa che in competitive non vedi sostanzialmente mai E quello che ora sta provando a fare è mirare lo Stalingrad di God Save My Us Per Non lo so Probabilmente non è spottato al momento Altrimenti avrebbe dovuto probabilmente lo bar essendo un Goliath Iniziare a dar fastidio con gli incendi allo Stalingrad che comunque è posizionato lì Ma anche AP Anche AP Comunque il Goliath ha un grosso calibro di AP Si 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 C'è una penetrazione un po' discutibile Più che altro i siluri del Somers sul Daring Che si è fermato Si è fermato Si è fermato I'm not Kilo Kifo I'm not Kifo prende tu Un siluro E basta per ucciderlo Si è fermato esattamente dove non doveva La situazione si complica per i Moss Visto che adesso hanno perso l'unico DD E il Somers potrà accappare evidentemente È vero che ci sono due radar che presidiano il cup Il Somers deve stare attento Deve stare molto attento Una mossa sbagliata Radar dello Stalingrad del Zenith Forse per vedere Co Perché La squadra non è radarato Probabilmente Forse è misclick Non che il radar al momento serve a qualcosa No anche perché nessuno è in grado di sparare a Stalingrad E Petro Che forse sono sportati dal radar No 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 Sono troppo lontani Si probabilmente Un Fatfinger Quei livelli Il Goliath sta spingendo È a bordo mappa Ma ha iniziato A Città del Lato In Lindenburg Si Ora L'attenzione di queste tre navi Probabilmente inizierà a dedicarsi al Goliath Però Per adesso I Zenith Stanno cercando di occupare Il più possibile La mappa Nel migliore Modo Diciamo Allora Ora io vorrei vedere Qualche azione Da parte dei Moss Perché I Moss si sono posizionati Per adesso Devono fare qualcosa Si sono posizionati Sì ma non sono posizionati Per nessun push No no Non sto dicendo Che si sono posizionati Per un push Si sono posizionati Attenzione che il Pedro Pavlos Dei Moss Stava a prendere Due siluri Allora sicuramente uno Da come si è posizionato ora E No ok Ne prende uno Ne prende uno Ne prende uno Ne prende uno Stava avanzando A un certo punto Sì è molto statica Il posizionamento Posizionamento dei Moss Hanno preso posizionati Hanno preso posizione E non hanno neanche Un DT Che possa dargli Spotting Quindi Venezia sul Sul Somers L'ha mancato Tutti in acqua Per pochissimo L'ha mancato L'ha mancato Però sta cercando Di arrivare in una posizione In cui riesca Riesca a sparare Al Somers Il problema è che Per fare questo Per fare questo Il Venezia Sta dando un broadside Pericoloso Allo Stalingrad Infatti si angola subito Stanno Tra l'altro Powell sta pushando Ma è da solo Il Petro Pavlos Di Maurus Sta continuando A retrocedere Quindi L'Ao Forse si sta muovendo Sulla linea centrale Chissà Lenti movimenti Ripeto Non 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 mi piace La staticità La staticità Bisognerebbe Ora i Moss Hanno comunque Tante navi Con tanti HP Come anche Gli Zenit Come anche Gli Zenit Assolutamente Però Dovrebbero Avere Un Un piano B È quello Che non si riesce A capire Quale possa essere Perché Da queste posizioni Non riesco a vedere Dei movimenti Che indichino Una reazione Almeno per il momento A parte Il Venezia di Powell Che Gira Da quelle parti Powell Sta Rischiando Moltissimo Anche perché È uno dei pochi Cruiser Spottati No Non è più Spottato È riuscito A andare A Sì perché Il Summers Se è andato Via Io sarei Restato Comodamente A spottarlo Fino a farlo Morire Però Questa è un'altra Storia In questo momento C'è il Goliath Che è Un dito In un posto Che non si può dire In streaming Su Twitch Per i Moss E il Goliath In questa situazione Con queste navi Che gli stanno sparando È Incredibile Francamente Incredibile Perché Può tankare Un Indenburg Sostanzialmente Per sempre Non gli Non ha Proprio Nessun problema Giocarsela Con un Indenburg A meno Dell'Ohio Che gli spara E l'Ohio Non ha mai Toccato il Goliath E sta pushando Soprattutto da solo Sta pushando Lo Stalingrad Forse inizia a muoversi Adesso Ma è molto timido God save my ass Forse No No Decisamente No No Si sta fermando Anche Anche il push Della Ohio Non lo potrei definire Non lo definirei Un push Perché Comunque gli Zenith Mostrano una grande Conoscenza E per spostare Lo Stalingrad Nella posizione In cui si sta spostando Ora E per Per avere crossfire Arrivo sull'Ohio Tra l'altro Si E l'Ohio Ha ricominciato Appena andare avanti Quindi Ne prende uno Ne prende uno Oddio Potrebbe accelerare adesso E salvarsi Si E no Ne prende uno Non fa troppo male Ma Lo Stalingrad Sul fianco Si E anche L'Ohio Che spara Di fronte I Moss I Moss Perdono L'Ohio Non stanno reagendo Essenzialmente Sono ancora inchiodati Nelle posizioni Che avevano preso Si sono fatti sorprendere Dalla morte del DD Che non si aspettavano Perché fino a quel momento Erano in assoluto vantaggio Probabilmente A volte succede Che Non Non ti C'è una cosa Che non ti aspetti Non sai che cosa fare Cioè La staticità In questo gioco Ti Si assolutamente Però Ti blocca La staticità La staticità Ti distrugge Cioè Non puoi Non puoi restare Fermo In attesa Se qualcosa Cambia Nella partita Soprattutto Quando L'unica Per farlo Se nulla cambia E stai vincendo Sì Soprattutto Perché La nave mobile Che avevi L'hai persa E Non puoi Vincere Senza Spostare Iniziare a muoverti E È mancato Quel Forse Il comando Di Di Go Per un'azione Di un qualche tipo I Zenit Invece Hanno Preso Lentamente Inesorabilmente Possesso Di tutta La parte Superiore Della mappa Con il Goliath Che si è infilato Come appunto Diciamo una spina Nel fianco Non Non usiamo Altre similitudini Come una spina Nel fianco Nelle difese Dei Dei Moss Sì Sì Il Goliath Allora Sinceramente Quello che avrei Gradito Io È che Visto che Il Goliath È stato Spottato È stato Spottato Più o meno Un poco Prima che Il Daring Morisse Quello che Avrei voluto Io È vedere I Moss Prendere E pushare Quel Goliath Era da solo E credo Avessero la coscienza Della posizione Degli Zenith Bene o male Non potevano Cioè Non potevano Avere il dubbio Che il Goliath Fosse in compagnia Di qualcun altro Quindi Sì Decisamente Stanno Invertendo Le squadre Cioè Era Comunque Era un tentativo Diciamo Semidistenato Perché Un Goliath In kiting Secondo me Al momento È probabilmente Il miglior Kiter Dopo il Venezia Solo che Ovviamente Il Venezia Ha Molta meno Possibilità Di fare danni In kiting Sì Li fai comunque Ma se le navi Ti pushano Con la prua Davanti Cioè Non hai Non hai Raggio Di manovra Non hai possibilità Di avere Di trovare Quei bel Beh Broadside Con quelli 15.000 Di salvo Di salva Che Che possono arrivare In ogni momento E quindi Da questo punto di vista Sì Il Venezia È sicuramente Può sopravvivere Tanto tempo In kiting Ma non Non è Così efficace Come il Goliath Mentre secondo me Il Goliath Al momento Io La considero Comunque Una delle migliori navi Soprattutto in competitiva Poi Sì Funziona Funziona molto bene Ha la pecca Del Di avere un raggio Abbastanza Ridotto Cosa che Comunque Il Venezia Non brilla Per Per raggio Però La ricarica 19.2 Io non lo chiamerei ridotto 19.2 Con il modulo Esatto Devi sacrificare Il ratio di fuoco Che sul Goliath È già Diciamo Lungo È vero Che una salva Di Goliath Fa molto più male Di due salve Di altri Cruiser Che sparano Più rapidamente Quindi Sicuramente È un Sono il primo A dirlo Visto che L'ho giocato Tantissimo In In competitivo Quindi So Quanto Quanto Può essere Cattivo E anche divertente Acque Settentrionali Anche perché Eh? Niente Leggevo il nome italiano Di Northern Waters Acque Settentrionali No Mi sta vedendo Un condotto Per sfortuna Dai nostri telespettatori Ho messo i nomi Yama Dove? Guarda chi c'è Oh Ok Abbiamo L'ingresso In campo Di Yamamoto Secondo Cosa Che Praticamente Abbiamo visto Power E ora Vediamo Yamamoto Che sono Ex compagni Tutti gli altri Non li conosciamo Perché siamo brutte persone Ehm Orribili Sì Soprattutto te Grazie Prego Sono felice Di questo Allora Direi che Di Northern Waters Hai già profusamente Parlato in precedenza Ti aspetti Dei cambiamenti Nelle Squadre Come Dal punto di vista I giocatori Stanno cambiando Però Ti aspetti Dei cambiamenti Anche tattici Con scelte di navi diverse Soprattutto per esempio I DD Ti sono piaciuti I due DD A parte Guarda Secondo me Il Daring A parte la fine Che ha fatto Era un'ottima scelta Per quella Quella Per vari motivi Il primo Che Sì ok Non hai Involta Possibilità Di torpare E tutto Ma Come cup Contester Sei Uno tra i migliori E In quel cup In particolare Con l'hydro Nel caso in cui Di nemico Si posizioni Dall'altra parte Dell'isola Tu puoi spottarlo Tutto il tempo Del mondo Praticamente E Mentre Il DD Di nemico Non può spottarti Quindi E Come la Mia scelta Ricordo Nelle prime Italian League Di Di usare Lo Z52 Prima del rework Di quella mappa In cui L'isola Era più grande Se ti ricordi bene E Niente Sarebbe stata Un'ottima idea Io avrei Tanto voluto Che il Daring Invece di tornare Indietro Ok Tu sei in vantaggio Però Quello che La nozione Che hai In quel momento È che Il Sommers È molto Basso di vita Quindi Quello che avrei Tanto voluto vedere È che il Daring Si mantenesse Nelle Nelle vicinanze Del cup E cercasse Di E cercasse di Spottare Cioè Di spottare Il Sommers E di Killarlo Che non sarebbe Stato per niente Difficile 10.000 HP Per un Daring Un Daring Un mostro Con Un ratio di fuoco Che si Oltre al fatto Che c'era il Venezia Dietro Lo Staring E via via Si Si assolutamente Poi Quella bellissima Salva del Venezia Che Ha praticamente Smezzato Da solo Il DT Con una salva Sola È vero Che una salva Di Venezia Sono 25.000 Proiettili In arrivo Però Il Venezia Ha dimostrato Di nuovo Stiamo già partendo Wow Il Venezia Ha dimostrato Di nuovo Il motivo Per cui Viene Usato Così tanto Allora Questa volta Sono io Con i Moss Abbiamo Un Ohio Un Hindenburg Un Venezia Due Stalingrad Un Gearing E un Daring Quindi I Moss Portano Due DT E uno È il Gearing Di Yamamoto Interessante Questa Questa è una mappa Che secondo me Si presta Abbastanza bene A due DT Per un motivo Molto semplice Ovvero L'ampiezza Sì È enorme E il fatto Sì È enorme E anche Sottivisa Con le isole Che la tagliano A metà Quindi Come se fossero Due mappe O tre mappe Diverse Quindi servono Sì E poi Soprattutto Per il fatto Che ho detto Prima Ovvero Che C'è un'enorme Possibilità Di crossfire In questa mappa E non è facile Assolutamente Pushare Avere due DT Può fare La tua fortuna Perché Ti permette Di Tenere spottati Gli avversari Che in una mappa Piena di isole Come questa È fondamentale E Cercare di Insomma Con Qualche Torp Ben piazzato Non Bisognerebbe Insomma Affidarsi Agli Hit Dei Torp Però Può Fare la differenza Ecco Quello che Mi piace Anche come Li stanno Distribuendo Ovvero Il daring Su A A contestare E Il daring Che probabilmente Andrà Prima centrale E poi Si sposterà Su C Lato C Insomma Tra l'altro Il Petro Pavlos Che Sta andando Il Petro Pavlos Che succede Cosa Che mi Sorprende Il che Potrebbe Cioè Per il Il gearing Non è affatto Un problema Ecco Sì Oddio Anche Lo Stalingrad Su Alpha Non è Inusuale Per quanto riguarda Li Zenith Dicevo Sì 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 Assolutamente Però Niente Lo Stalingrad Degli Zenith Vuole Fare qualcosa Che secondo me Lo Stalingrad Non può Assolutamente Fare Vuole andare In linea 1 E pushare F1 Dietro Quest'isola Il problema Per questo È che Hai uno Spotting range Troppo Alpio Essendo Lo Stalingrad Non lo so Bisogna vedere Anche Come i colpi Della Ohio Potranno Arrivare Eventualmente Sullo Stalingrad Che prova Quel movimento La Ohio La Ohio Intanto Apre il fuoco Sull'altra Ohio Direi Radar Di Erbar Carolo Che probabilmente Spotta Vediamo Il gearing No Non spotta Il gearing Quindi Yamamoto È Centrale Dello Stalingrad Dello Stalingrad Sul Petropoulos Sì Ne vediamo Stanno arrivando Adesso Niente di Troppo Drammatico La Ohio Apre il fuoco Sullo Stalingrad God save my ass E Invece Lo Stalingrad Dei Moss Inizia a prendere Dei danni Più che Dalla Ohio Sono arrivati I colpi Proprio Anche Dalla destra Intanto Arrivano Anche I siluri Del Somers Che non Dovrebbero Impensierire Troppo Lo Stalingrad Però Di God save my ass Deve stare Attento In quella Posizione Perché Se è ancora Spottato Ed è Ancora Spottato Perché Stiamo vedendo La visuale Degli zenith La Ohio Se viene più avanti Potrebbe essere Ma non solo La Ohio Anche il Petro Pavlos Sono in un'ottima Posizione Per dar fastidio A God save my ass Radar Dello Stalingrad Ma Non ha fortuna Troppo lontano Troppo lontano Il Somers Si sta allargando E Come avevi previsto Lo Stalingrad Intanto Si posiziona Di fianco All'isola Ma lo Stalingrad Qui non può stare Qui dove l'hanno portato Qui può stare Solo se Solo se È messo Meglio Diciamo Allora Intanto Tutti gli zenith Sono spottati Su questo fianco Lo Stalingrad Per adesso Sopravviverà Finché non muore Il Salem Credo Che adesso va Undetected Perché In una posizione Il Salem Lo vedo molto scoperto Per il momento È vero che sta Sfruttando Il Consume Lo Stalingrad Deimos È morto Si Non è morto Ora Non è morto Ora Ma è in una posizione Da cui Non esce vivo Anche perché Non riesce a manovrare Probabilmente Prende l'isola Di nuovo Si Si È bloccato Lì È di nuovo Incendiato 2 Ripara Ripara Adesso Vediamo Ora Potrebbe andare Undetected Ma Lo sa È consapevole Non lo so So che gli stanno Arrivando addosso Degli altri HE Che lo accendono Di nuovo E questo Decaita la morte Dello Stalingrad Big rip Si Si tratta di vedere Chi è che prenderà La kill Direi Non sono i siluri Del Somers Probabilmente Sta cercando Di riparare Sta cercando Di riparare Ma sta andando Indietro Se adesso L'ahuagio Lo vede È morto E l'ahuagio Lo sta vedendo Non spara Non spara Non Sta girando I cannoni Si sta Sta cercando Di coprirsi Di nuovo Vediamo Se riesce A riparare Gli incendi Che ha A bordo Perché Sta usando La cura Il Somers Sta tornando Per spottarlo È in una brutta Situazione Questo Stalingrad Ed ecco qui Ora dovrebbe Arrivare La pioggia Di fuoco Ha perso Il fuoco Anche il Goliath 2723 E Va giù Con la salva Del Goliath Perdono Una pedina Importante Più che altro Perché Era Il radar Il radar Che impediva Al Somers Di scorrazzare Liberamente In giro Per Alpha Resta il Dering Ovviamente E il Venezia Si ma il Venezia Non potrà restare lì Non può restare lì Anche perché È sotto il fuoco Di Tre navi Più E ora lo Stalingrad Degli Zanit Sta pusciando Adesso può muoversi Adesso può muoversi Ora è spottato Ci sono Dei siluri Si un siluro Del gearing Di Yamamoto È arrivato Sull'Ohio Di Tigellino Ma ha riparato Eventuali flooding Quindi non sta Ricevendo danno I Moss Su quest'altro fianco Stanno cercando Di concentrarsi Proprio Sull'Ohio Vediamo se Riescono a tirarla giù C'è Lindenburg Che sta cercando Di incendiarla Ma L'Ohio Ha risposto al fuoco E vediamo se Oh 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 Zostino Praticamente In una salva Anche se Sono partiti Tun 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 Quindi non era una salva completa Ma Colpi consecutive È andato giù Inesorabilmente Per la chat Giusto per Per chiarire Una cosa Lindenburg ha il turtleback Che a distanza ravvicinata Diciamo sotto i 10 km È un ottimo tool No Ok scusa No no Ero emozionato Ma Però aspetta Te parla che io seguo questi siluri Ah ah un turtleback che Attenzione perché questi siluri sul somers Io te l'ho detto Di chi sono questi siluri Sono del killing Che Yamamoto ci metta la zampetta No no Il somers è troppo agile Li ha spottati E si angola Niente da fare Dicevo che Il Lindenburg ha il turtleback Che è un ottimo tool Se Ha usato a distanza ravvicinata Ma Usandolo Cioè a distanza Il turtleback È il esatto opposto Che è buono Perché Quella parte che è angolata E che da vicino ti permette di Non essere cittadellato Da lontano Diventa con il plunge in fire Il perfetto ricettacolo per ricevere Molti Molti danni E molte cittadelle Scontro a fuoco intanto Perché Il Daring ha aperto il fuoco Sul somers Direi che Un equo scambio di colpi Considerando anche Che in realtà Il Daring Ha a che fare Con altri tre cruiser Che gli sparano addosso Mentre il somers Ha soltanto il Venezia Che non poteva sparargli Quindi Se consideri che È vero che il Daring Ha la cura Ma Bene o male Il Daring Ha fatto molto più male Al somers In questa azione Il Venezia però Si sta andando a posizionare In una No Venezia Sta pushando In un suicidio Essenzialmente Il Vezza sta cercando Di eliminare Il Salem E prendere la posizione Probabilmente Switchando su AP Potrebbe pure farcela Però sta veramente Sta veramente Nooo Si sono visti proprio I colpi Dello Stalingrad Che arrivavano E lui che virava E l'angolo E l'angolo di penetrazione Migliorato Mette dei siluri E mette dei siluri Anche nel Goliath Il problema È che Gli stanno arrivando Addosso dei siluri Che sono i siluri Del Somers Eeeh No 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 Yama No 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 Yamamoto Prende due siluri E va giù Niente da fare Un tentativo Però C'è del movimento In Terra mossa Adesso almeno Rispetto alla prima partita Sì infatti Stavo per dirlo Grazie per avermi anticipato È importante Però ti faccio notare Come di nuovo Il movimento Si è essenzialmente Partito dai DD Poi i Cruiser Li hanno seguiti Ovviamente Con discutibili risultati Però Quindi Di qui deduciamo Che essenzialmente La strategia Dei Moss Risiede Nel Nel DD Che Che lavori parecchio Ecco diciamo Almeno questa è L'impressione Che ho avuto io Lindenburg Se Lindenburg Stavo per dire Che se Lindenburg Gli Zanit Avesse sparato a piedi Nella Stalinger Sarebbe stato un death strike Ma non c'è stato bisogno No Purtroppo no 980 punti La partita finisce Tra 13 secondi Tra l'altro La Ohio Sta prendendo Anche lei Delle discrete botte Restano in due Sicuramente Più attiva E più reattiva La squadra dei Moss In questa partita Rispetto alla prima Quindi se dovessi Scegliere Una partita In cui I Moss Mi sono piaciuti È questa No Comunque Gli Zanit Però Gli Zanit La squadra più organizzata Esattamente Sì Hanno Più aliata Si vede Che sono preparati Possiamo dire una cosa Noi Conosciamo Due settimi Di Moss E Vediamo Molte tag Diverse Perché sono Due clan Messi insieme Che stanno Giocando insieme Ma comunque Forse pagano anche La giovinezza Dell'esperimento Che hanno portato avanti Gli Zanit Sono uno squadrone Che è ben rosato Questa come anche La scorsa partita Sì infatti Gli Zanit Sono una squadra Che gioca da anni Insieme Sono quasi sempre Gli stessi E comunque Anche se non sono sempre Gli stessi A giocare Comunque Si conoscono Giocano insieme Insomma In divisione In club battle Sanno Cosa fare Ecco Non si può aspettare Da una squadra Nuova Appena formata Che Abbia una performance Che dovrebbe avere Che è proprio La cosa Che invece Guadagna Con Con queste esperienze Con gli allenamenti Quindi La speranza È di vedere Questa Tag Moss Che cresca Con L'andare avanti Della Della competizione Sicuramente E Complimenti agli Zanit Perché hanno Padroneggiato La mappa In entrambe Le partite Senza Senza Problemi Sì sì Assolutamente Allora Secondo me Allora La prima partita È stata decisa Da due fattori Uno La sfortuna Perché Voglio dire Quei siluri Dovevano essere lì In quel momento È strano Che il Daring Non si è riuscito Il Daring È uno dei navi più Manovrabili del gioco Non so se Stava Non so Cioè È difficile Prendere un siluro Soprattutto Se tu ti stai Allontanando Dai siluri Perché se tu Stessi andando Incontro E giri Nel momento Sbagliato C'è sempre La possibilità Di prenderlo Ma se tu ti stai Allontanando Non si stava Allontanando Era in Broadside Alla salva E lui si è fermato Esattamente nel momento In cui non doveva fermarsi Perché Stava andando In Broadside Ma se fosse Se avesse mantenuto La velocità Li avrebbe Tranquillamente Gli sarebbe passato Davanti Io in quell'istante No lo stavo Stavo proprio guardando E il problema È che si è fermato E fermandosi Non è riuscito A ripartire in tempo Né a manovrare Perché era Esattamente In Broadside E si è preso Un siluro E quindi Sfortuna E poi passività Ripeto Se tu Se tu sei In svantaggio In questo gioco Non puoi restare Fermo Nelle tue idee Nelle tue posizioni Senza Avere una Contro Una contromisura Perché continuerai A essere in svantaggio Esatto Non c'è Non c'è Non È molto difficile Soprattutto A tier 10 Che per esempio Arrivi una delle salve Miracolose Un qualche sorta Di dev strike Quasi È molto molto difficile Questa è la prima partita La seconda Semplicemente Un errore di posizionamento Lì Lo Stalingrad Non può stare Lì ci si mette Un De Moines Lì ci si mette Un Salem Lì ci si mette Un Worcester Perché no Un Worcester Lì dietro Può lobbare Tranquillamente Sono le navi Più lontane E può contrastare Ma non ci si mette Uno Stalingrad Hai un raggio Di spotting Di due chilometri E passa Più del tuo radar E sei estremamente Vulnerabile Agli incendi E dipendi Molto 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 Dal DDA A quel punto Perché devi Veramente Ma no Nemmeno Cioè Se tu Modizioni lo Stalingrad Lì Sostanzialmente Gli metti Un timer Addosso Quindi O hai una strategia Che ti permette Di farlo muovere Sì Dalì si deve muovere Dalì si deve muovere Sì sì Io avrei più gradito Diciamo che quella Deve essere una tappa Temporanea Fosse andata Fosse andata a smoccare Lo Stalingrad E gli avesse permesso Di girarsi E andare via All'inizio Non so se tu l'hai notato Ma io lo stavo guardando Non l'ho detto Perché stavi parlando tu In quel momento Lo Stalingrad Stava prendendo Una posizione Eccelsa Ovvero Con Di Stern Come si dice Poppa Di poppa Verso il cap Sì E stava andando In reverse Che sarebbe stato Perfetto Perché così In ogni momento Poteva andarsene Sì 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 Se invece tu ti attacchi A un'isola Con la prua Verso il nemico Sì Andando all'indietro Vai a Quanto va lo Stalingrad All'indietro Dieci nodi Non penso Sì è fortunato E soprattutto Deve accelerare Per tanto tempo E Tu non puoi Sei Come io parlavo Di crossfire L'abbiamo visto perfettamente In questa partita Perché quello Stalingrad Lì Era in mezzo A un crossfire Da cui non sarebbe mai Potuto uscire Quindi questo È un errore Strategico Non so Chi fosse Il field commander In quel momento Credo di averne Un sospetto Ah no Era la seconda partita Non lo sappiamo In realtà Marche Non può Uno Stalingrad Lì Non può stare Per nessun motivo Al mondo Un Petropavlovsk Sì certo Un Petropavlovsk Stare lì Perché il Petropavlovsk Intanto È A tre chilometri In meno No Tre chilometri In meno Dello Stalingrad Di spotting Circa E poi può fare Steltrader Quindi Se il DD Vuole spottare Il Petropavlovsk Deve essere Spottato Cioè verrà Spottato E con un daring Nelle vicinanze Io non penso Che un Somers Sia così Coraggioso Da voler stare 20 secondi Spottato Casomai A sette chilometri Da un daring Con un Petropavlovsk Con un Venezia Di fianco Cioè sarebbe Vuol dire Che ha Le palle Per farlo Io dubito Che l'avrebbe fatto Ma uno Stalingrad Ha tante debolezze Ha tanti pregi Tantissimi pregi Soprattutto I cannoni E i cannoni Che sono Il punto forte Oltre agli HP Perché comunque Lo Stalingrad Lo Stalingrad Messo in kiting Con 72.000 HP Non è così facile Da buttare giù E questa è la prima È la ragione principale Per cui hanno perso Però mi è piaciuta La reattività In questo caso E il fatto che Abbiamo cercato Di fare qualcosa Non importa Perché Una volta che tu Stai perdendo La partita Se tu tergiversi Aspetti Quello che fai È semplicemente Perdere più tardi Mentre Provare No O perdere prima Perché Non cambia niente Quindi Continui a perdere punti Lei dell'Indenburg Mi stava quasi Però Era decisamente In Brozza E dall'Ohio Quindi Lì Diciamo che Quello è un misplay Sicuramente Ma è anche fortuna Perché Non è Non è così scontato Che Ha 20 e più chilometri Perché di tanto Stiamo parlando Non è scontato Anche perché Due cittadale Tre cittadale Quante Abbiamo preso Credo Un paio La prima Un paio Più un'altra Quindi In totale Tre almeno Si